Senti, che roba. Tutti i giovedì. Fate il bicchiere. Certo, questa mia famiglia ha fatto veramente schifo. Io non ce la potrò mai avere una vita normale. Io sono segnato. Ma perché? Sei tanto una brava persona. Ma che? Io so peggio degli altri, dai. L'ultima proprietà è visto che fine ha fatto. Io sono segnato. Io che cosa le potrei offrire a una signora? Ma a quella signora? Ieri, con mio cugino Carlo, ho conosciuto una signora. Una bella signora. E poi, oggi, sempre per via di Carlo, gli ho fatto il messaggino. E beh? E lei mi ha risposto. Oh. E che ti ha scritto? Ma sì, tocca era contenta di conoscermi. E meglio di così? E no, no. Io adesso stavo tanto bene. Mi stavo un attimo sistemando. E adesso che faccio? Ma scusa, ma... Ma questa signora, ti piace? Beh sì che mi piace. E allora? Ma io so vecchio, Daniele, io so vecchio. Non so mica come te. E? Io mi sento ridicolo. Non è che io posso sostenere una situazione del genere. Ma che vecchio è vecchio. Noi non siamo vecchi. Guarda dove stiamo. Guarda. Noi. Noi siamo al palazzo. Noi da qui dominiamo la valle. I boschi, le case, i villaggi. Noi dominiamo tutti. Non siamo vecchi. Ma che c'entra tutto questo con la signora che ha conosciuto lui? E come se c'entra perché noi non siamo vecchi. Noi siamo leoni.